Non c'è alcun rischio per la salute e nessuna condizione di emergenza. Il Comune di Napoli rassicura la cittadinanza sulla presenza di blatte che, complice il gran caldo, da giorni preoccupa gli abitanti di diversi quartieri cittadini. Ed intesa con Asle, rappresentanti della Municipalità, dà il via ad un fitto intervento di pulizia di caditoi e strade e giardini. Il piano, messo a punto nel corso di un incontro a Palazzo San Giacomo, prevede il potenziamento del calendario notturno di disinfestazione già avviato ad aprile ed interventi aggiuntivi diurni che hanno preso il via già da questa mattina. Diciamo ai cittadini di Napoli di essere tranquilli, non c'è nessuna allarme blatte, nessuna preoccupazione di tipo sanitario. C'è stato un proliferare in questi giorni dovuto al caldo eccessivo, torrito e l'assenza di piogge e visto il perdurare del caldo ancora per i prossimi giorni abbiamo chiesto all'Asle di potenziare gli interventi di deblattizzazione, che voglio ricordare non sono stati, ci sono stati già fatti dal mese di aprile e proseguiranno fino a settembre. A quelli già programmati abbiamo chiesto interventi straordinari aggiuntivi che si stanno facendo dalla giornata di oggi e che si faranno ogni giorno durante le ore diurne e in aggiunta a quelle che si fanno di notte abitualmente. Sulla base delle segnalazioni ricevute dalle varie municipalità, gli operatori dell'Asle sono infatti al lavoro nelle strade e nelle aree dove si registra una maggiore presenza di insetti russi. Si parte da Piazza Mercato, Corso Vittorio Emanuele, Chiaia, Furigrotta, Rione Alto, Secondigliano, ma anche Via Tribunali ed il quartiere di Barra San Giovanni. Il programma completo della disinfestazione, consultabile nell'apposita sezione sul sito del Comune, interesserà gradualmente tutta la città.